Buona a tutti raga dal vostro Zedcastle, mentre andate alle video recensioni del Trono del Re qui su Lega Nerd, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, non perdetevi manco una notifica e entrate a far parte della community del Trono del Re. Allora, il fumetto di cui vi parlo oggi è Solo Leveling, l'adattamento cartaceo del famosissimo webtoon coreano da parte di Star Comics. Boom! Allora, Solo Leveling è sicuramente uno dei fenomeni giovani, più di moda e più chiacchierati del momento, quindi vale la pena soffermarsi. Si tratta di un webtoon popolarissimo, ovvero di un webcomic coreano, un fenomeno che si è fatto piuttosto interessante già ormai da più di una quindicina d'anni, ma che realmente ha visto l'esplosione con l'avvento dell'era tablet, smartphone, eccetera. La formula che possiamo apprezzare nell'attuale generazione di questi prodotti è intelligente, anzi assolutamente vincente, cioè sono caratterizzati da un unico flow di illustrazioni che si possono scorrere in verticale e quindi assolutamente, totalmente ottimizzati per quella che è appunto l'epoca smartphone per i dispositivi mobili. Oltre ad essere tipicamente a colori, a differenza di tanti manga e manwa, spesso vantano anche degli effetti visuali, delle animazioni, addirittura un accompagnamento sonoro, una cosa molto bella e innovativa. Sapete, risparmiando un po' tutta quella che è la componente editoriale cartacea tradizionale, ci si può concentrare sui disegni, come in questo caso, portando anche una qualità importante, impaginazione, oltre anche ad avere qualche piccolo, non so, scamotaggio legislativo magari a livello di censura, eccetera, eccetera. Insomma, i Webtoon sono assolutamente un esempio di come portare il fumetto in questa nuova epoca di digitalizzazione e ben si capisce il successo anche internazionale della cosa. Un successo che, tra l'altro, talvolta è più legato alla nuova forma di fruizione che non tanto alla qualità stessa dei prodotti. Ma solo leveling, titolo per cui sono tutti impazziti praticamente già dall'annuncio al Free Comic Book Day 2020 da parte di Star Comics, è un titolo che fa un caso un po' a parte e lo analizziamo. Anche se effettivamente non racconta nulla di innovativo dal punto di vista narrativo, riesce però ad elevare una formula assolutamente efficace che è quella del Battle Comic, del Battle Manga, del Battle Mangua, con una componente grafica sicuramente interessante, di spessore e un'importante messiscena anche a livello effettistico. Trama è in un mondo in cui hanno fatto la loro comparsa dei misteriosi portali che conducono verso altre dimensioni dell'esistenza, questi portali sono popolati da creature incredibili all'interno di dungeon che ovviamente contengono dei tesori. Contemporaneamente alcuni esseri umani cominciano a manifestare dei poteri sovrannaturali e decidono di diventare degli hunters, ovvero degli avventurieri di professione che entrano all'interno di questi dungeon in cerca di ricchezza per sconfiggere queste creature. Ogni dungeon è classificato in base al livello di minaccia che era presente, quindi delle creature che si possono trovare all'interno, e ogni hunter ha una classificazione in base al suo effettivo potere. Jing Wosu, il protagonista di questo fumetto, è una schiappa totale, cioè proprio veramente una matricola a tutti i livelli. Pur essendo un hunter non riesce a salire oltre il livello E, che è il livello più basso, e ogni volta praticamente è una zavorra per tutti quanti i compagni. Fa questo mestiere per sostenere le spese mediche della madre, purtroppo malata, è un bravissimo ragazzo, ma verrà una cosa importantissima. In un doppio dungeon misterioso, mai visto prima, lui e la sua squadra si troveranno ad affrontare una minaccia mai vista prima di livello addirittura S. Questo scatenerà in lui un potere, un potere particolare, che lo renderà ogni scontro sempre più potente e sempre più dannato. In questo primo volume, trasposto su carta da Star Comics, dell'opera di Chu Gong, che tra l'altro è l'autore della novella originale con i disegni di Dubor e Dai Studio, ci si ferma praticamente all'arrivo di fronte alla grande minaccia che poi trasformerà il protagonista. Insomma, stiamo parlando di un battle comics, con creature sempre diverse, un protagonista che cresce di livello ad ogni combattimento, salvo poi ad entrarsi in un mistero più fitto, legato all'origine dei suoi poteri, dei dungeon stessi, delle creature che li popolano, eccetera, eccetera. Pratica un videogioco, ragazzi. Come vi dicevo, non c'è nulla di particolarmente originale e innovativo. Anzi, normalmente un manga o un manga di questo tipo potrebbero anche rischiare di essere travolti dallo tsunami di pubblicazioni tipiche del genere. Ma cosa ha questo titolo più degli altri? Beh, innanzitutto una parte grafica notevole. Questo va riconosciuto per quanto riguarda i personaggi e le creature. Decisamente meno per gli ambienti che spesso sono poco più che accennati, ok? I personaggi però danno l'idea di un anime comic di qualità, no? Molto dinamici, però non basta questo per determinare il successo. La formula delle storie di combattimento a livelli è vecchia come il cucco, però è sempre efficace, ragazzi. Spezia se si considera il target di età a cui si rivolge maggiormente, quindi un pubblico di adolescenti. Però è assolutamente ben ritmata. Ovviamente non mi riferisco solo al primo volumetto, ma è poco più di introduzione, ma anche a quello che ho potuto constatare poi più avanti informandomi. Ed è dosato con maestria e intelligenza. Intrattiene, diverte, casa a livelli di epicità di scontro più alti, ovviamente. E quando Jing Wusung a un certo punto assumerà addirittura il controllo del proprio esercito di ombre, eccetera, inizierà a affrontare minacce sempre più gigantesche e spaventose, ammetto che è impossibile non farsi prendere da un sano hype bello iper distruttivo. Senza poi considerare i momenti di alleggerimento più comici che ci sono, sono parecchi e che sono tipici del genere. Solo Leveling è diventato un webtoon nel 2018, è un figlio assolutamente un prodotto di questa generazione, una generazione rapida, veloce, una generazione che vuole fruire di un prodotto dove e come gli pare, è proprio grazie agli smartphone, che ama i fumetti, ma che non necessariamente è per forza legato alla passione cartacea che magari abbiamo noi. Però è anche e soprattutto una moda del momento. Si parla tantissimo di webtoon, della popolarità, tra l'altro di questo che è esploso anche a livello internazionale, insomma è di livello molto alto, poi si parla anche di un probabile potenziale adattamento anime. Però è curioso che in Italia e anche in altre nazioni europee questo sia arrivato sotto forma cartacea, visto che la sua stessa natura lo vorrebbe puramente e delitariamente digitale. Però è un fenomeno giovane, che già in questi tempi di iperesplosione dei prodotti asiatici, giappone e gli studi, ma anche i coreani si difendono bene, gode di un terreno assolutamente fertile. I ragazzi ne parlano, sui social, tam tam mediatico, cresce l'interesse che poi diventa fenomeno virale e questo genera delle reazioni sempre estremamente entusiaste. Ma questo video non vuole essere la recensione per un ragazzino che passa per Lega Nerd, ok? Vuole sapere qualcosa di più di questo prodotto. È più il tentativo di un quasi quarantenne come me di spiegare magari a dei quasi coetanei come lui più o meno cosa sta alla base di un fumetto che sulla carta, seppur mostrando un sicuro fascino, una preparazione attenta, meticolosa, non scontata, un sapiente sfruttamento del genere, anche fumettistico, e un buon character design, di fatto non ha molto in più rispetto ad altri fumetti in circolazione. Ma è così, solo leveling è un vero fenomeno e tutto sommato è un fenomeno positivo e mi fa piacere che ci sia che sia arrivato in Italia. Costa 8,90 euro, questa è la versione regular, ovviamente pubblicato da Star Comics. Vi ho parlato di solo leveling e ciao a tutti ragazzi, buona lettura, mi raccomando, iscrivetevi al canale, BOOM!